grazie a tutti voi alle compagnie e compagnie di rifondazione un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere alla nostra Loredana Marino al mio collega Franco Musumeci che mi si fanno sentire di casa questi incontri per me molto di qualità e molto importanti credo che nel 1897 un certo Theodor Herzl giornalista ungheresi fondatore del sionismo scrisse un libro che si chiamava lo stato ebraico dove proponeva come soluzione della questione ebraica della perquisizione di librei in Europa in modo particolare nell'Europa dell'est la creazione di un stato ebraico tutto speciale e particolare per loro e lui in questo libro proponeva il posto lo stato scriveva del parlava dell'Oganda e dell'Argentina e qualche altro posto eh L'Oganda e l'Argentina e quegli tempi come la Palestina erano sotto il dominio dell'impero britannico e quindi noi spesso diciamo ormai spero che anche voi l'avete compreso che Israele è praticamente un progetto eh capitalista imperialista colonialista dell'impero prima della seconda guerra mondiale dell'impero britannico che ormai era l'impero dove eh il sole non risorgeva mai non tramontava mai dai suoi territori e dopo la seconda guerra mondiale eh degli Stati Uniti d'America questo attuale impero eh credo che eh perché eh gli inglesi eh scegliessero la Palestina perché diventa lo stato ebraico eh praticamente una base avanzata eh di questo occidente coloniale capitalista eh dominante e perché loro hanno capito eh tutto lo credo che tutti hanno capito che ormai il Mediterraneo è il cuore del mondo quindi voi sapete cosa vuol dire il cuore per un organismo umano per un corpo umano eh tutto quasi per questo se noi andiamo a guardare credo che eh in Italia la Spagna la Grecia la Turchia sono centinaia centinaia di basi militari americani della Nato non viene per niente per caso questo e quindi il dominio per diventare un impero devi dominare il Mediterraneo per questo avete fatto bene a parlare di questo è vero probleme del del mezzogiorno italiano che sono molto importanti però è questo Mediterraneo anche per me è molto importante e purtroppo l'Europa eh non ha reso conto dell'importanza di questo argomento per questo esempio io per me dico sempre questo incontro dei popoli del Mediterraneo possono diventare una potenza a livello mondiale purtroppo questo non esiste come per qualcuno parlò stamattina parlato della strategia mediterranea non esiste in assoluto perché gli unici che hanno avuto un po' di coraggio a parlare di questa cooperazione di questa forma eh di collaborazione cooperazione eh del Mediterraneo sono stati credo che in Italia Enrico Mattei e Aldo Moro e tutti sappiamo come sono andati a finire eh purtroppo così per questo io dico quando parliamo del probleme globale il problema palestinese per me anche importante perché ci hanno creato Israele in lì in quel posto proprio per il dominio del Mediterraneo il dominio del mondo e questo l'Israele per me è uno stato canaglia un stato criminale il bastone la spada posta sulla testa di ogni arabo di ogni abitante di questo Mediterraneo che appena che alza la testa Israele non è per caso eh credo che nel primo impero britannico l'inglese quando portarono gli ebrei da tutte le parti del mondo nel mil novecento vintitré fecero delle leggi li portavano in Palestina ma fecero delle leggi nel mil novecento ventitré che impedivano a loro di entrare in Inghilterra quindi io te porto a casa degli altri ma a casa mia mai e questo è il problema come stanno facendo ora gli americani gli americani siete se ci siamo mai chiesti perché gli Stati Uniti d'America ogni anno paga quattro miliardi di dollari a fondo perduto aiuto dello Stato dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America tutti gli armi più sofisticati più moderni vengono prima usate da parte dell'eserzo israeliano e poi da parte dell'eserzo americano della Nato tutte appena che si parla di un'eventuale eh risoluzione di condanna alla politica criminale alle nazioni te eh c'è sempre il veto americano per questo io dico non voglio parlare adesso di questa Europa credo che il il conflitto eh attuali eh russo ucraino ha fatto eh ha fatto venire fuori in maniera eccellente la falsità l'epocresia di questa Europa e mi dispiace molto le dico questa Europa è forte ce l'ha la forza però purtroppo è codarda non ha il coraggio è la cosa più importante per me avere il coraggio più non non basta solo avere la 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 forza per questo io dico io adesso non voglio parlare di quello che stanno facendo gli israeliani con noi però tutti voi sapete che Israele nega completamente l'esistenza l'esistenza a me mi fanno rabbia quando ti parlano per non dimenticare la giornata della memoria ma sono sono primi a dimenticare a dimenticare la sofferenza umana e le e tutto quello che sta accadendo in Palestina e in tante altre parti del mondo per questo io dico mi spiace molto come diceva il mio compagno eh kurdo stamattina adesso parlare di diritti umani veramente io non lo so dove dove dobbiamo parlare dove stanno questi diritti umani sulla carta esistono e sono bellissimi però in pratica uno studio svedese parla di cinquantanove focolari di tensione di guerra di sofferenza a livello mondiale il papa parla della terza guerra mondiale ma dico a Dio quando ci sono cinquantanove focolari di tensione a livello mondiale più di così di quella terza guerra mondiale che aspettiamo la terza guerra mondiale e questa è la terza guerra mondiale eh attuale e moderna comunque io dico non vuole parlare della sofferenza palestinese però io l'altro ieri ho mandato in giro un video eh per dirvi solo come il come la pensano cioè un eh soldati israeliani hanno arrestato in una macchina la mattina come il il caldo da noi come qua a Roma e quindi hanno arrestato i genitori di due bambini un bambino mi sembra un anno e mezzo due e l'altro bambino di due tre mesi hanno arrestato i genitori lasciando i bambini dentro la macchina ma come si fa è possibile questi soldati non sanno cosa vuol dire lasciare due bambini di questa età e una macchina sotto al caldo cosa succederà vorrei vedere se era successo in Italia o magari in Europa però purtroppo a Israele è permesso tutto permesso tutto e al di sopra di tutte le leggi di tutte le regole tutte ma Abomasa nell'altro giorno parlava perché anche non può parlare di tutti i nostri problemi che sono tantissime però ci sono settecento risoluzioni dell'assemblea generale dell'ONU e più di novanta del consiglio di sicurezza Saddamo Sena ha violato solo una una risoluzione del consiglio di sicurezza hanno il vaso occupato distrutto l'Iraq per sempre per una Israele novanta risoluzioni del consiglio di sicurezza che non sono mai stati rispettati o applicati purtroppo questa Europa Arafat prima del da sempre continua a dire finché il problema palestinese del medio orientale fra rimane fra le due superpotenze ai tempi della guerra fredda non si risolve quindi la sua speranza è sempre stata questa Europa un terzo polo un terza una terza potenza che per me una potenza però purtroppo non ha il coraggio a esercitare la sua forza e venire fuori che è una per per me non solo per noi ma in tutte le comunque io voglio concludere purtroppo questa Europa alla fine ci porta tutti questi problemi e quando non non io spesso mi chiedo ma è possibile che non si riesce a scoprire la sua potenza la sua forza e sempre deve fare la da 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 servo al al ordine degli Stati Uniti d'America e io dico questo e per questo purtroppo siamo arrivati a un certo punto che ormai anche in Europa continuano a subire e io mi vieni adesso in mente eh dal dal momento che parliamo di 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 mi sgiorno eh e quel carissimo compagno eh Mimmo Locano Andrea Costa cosa sta sta successo ma è possibile uno che ha fatto non voglio dire io l'ho conosciuto sono stato più di una volta da lui da da Mimmo poi conosco molto Andrea che ormai non bisogna aiutare e questi sono quasi gli e gli ordini per questo io dico comunque concludo noi e noi curdi e tutti i popoli che lottano in ogni parte del mondo per la libertà non siamo stanchi non siamo disperati per niente e siamo continuiamo la nostra lotta la nostra resistenza perché siamo continuiamo a affermare non è mai stato sconfitto un popolo che lotta per la libertà e la giustizia grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti